E questa è la testa di deserta, quella lì, in mezzo alla nebbia, un rettone che vedrai poi da sotto. E qui quando sei già alti? Ma qua, metti che sia 2,5? Sarà 2,5? Eh, penso che ti sarà 2,5. Mamma mia che riuscita. 2,4,95. E' di salire ancora 5 metri allora. Sendiamo la sopra, superiamo. Ma che non va bene, se no. Quella strada là è la strada che va a Ceresole. Sì, sì, la strada di Ceresole. Forza Antonio che ci siamo! Ancora mezz'ora. Un'oretta e ci siamo! No, mezz'ora, mezz'ora. La strada che abbiamo fatto noi prima, quel pezzettino di Ceresole. Ah sì, perché noi siamo poi parcheggiati lì. Le prime case. Sì. Se noti dove sta passando la macchina adesso, laggiù, c'è il bivio sulla sinistra. Sì, sì. Dove abbiamo lasciato la macchina a noi. L'abbiamo fatta di strada. Però è un bel panorama. Sì, da qua sì. Vale la pena.